Il Cimitero Monumentale della Misericordia dell'Antella dal 1856 è tra i più rinomati e importanti in Italia, sia per le dimensioni sia per le opere d'arte che qui vi sono raccolte, così da essere il secondo cimitero in Firenze per monumentalità. Oggi, secondo il FAI, Fondo Ambientale Italiano, è anche il secondo cimitero monumentale d'Italia dopo quello del verano a Roma. Col trascorrere degli anni e fino al 2000 si sono susseguiti vari progetti di ampliamento. Tra tutti vale la pena ricordare l'intervento del 1881 dell'architetto Giacomo Roster con una lunga e magnifica serie di archi confluenti verso il portico centrale e con due corti laterali che chiudono il vasto piazzale dove si proietta ingigantita la cupola dell'arco centrale d'ingresso affrescata da Galileo Chini nel 1911 con una magnifica corona di angeli oltre alle sculture di Maria Amalia Dupré. Moltissimi personaggi illustri qui sepolti, non solo italiani ma anche stranieri. Il cimitero oggi offre numerose possibilità di sepoltura di ogni tipo, è praticamente una città nella città ed ha più abitanti il cimitero monumentale della misericordia dell'antella che l'attuale paese dell'antella. Il comune di Bagnaripoli e la misericordia dell'antella hanno accolto l'invito della regione toscana a partecipare attivamente alle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Galileo Chini, non solo perché possano vantare diverse opere realizzate per il cimitero monumentale, ma perché qui è sepolto, in una cappella da lui affrescata, il ricordo della figlia, anche lei qui sepolta e morta giovanissima nel 1946. Da sabato 2 dicembre 2023, anniversario della nascita, come primo evento del 150esimo sono partite le speciali visite gratuite guidate alla sua tomba e alle tante opere che Chini ha realizzato in vari cappelli del cimitero. Visite che proseguiranno per tutto il 2024 con un apposito calendario che potete consultare direttamente sul sito della misericordia dell'antella nel 1911, quella che ancora oggi risulta essere tra le sue opere più importanti, se non la più importante in assoluto, ovvero la cupola dell'arco centrale d'ingresso, dove Galileo Chini ha dipinto, in oro o zecchino, una magnifica corona di angeli. La cupola fu realizzata poco prima che l'artista più importante dei Liberty in Italia partisse per il Siam, oggi Thailandia, per lavorare alla sala del trono del palazzo dell'imperatore, reso famoso nel 1956 dal musical e film premio Oscar Il Re e Io della String to the Century Fox con Jul Brin e Deborah Kerr e poi dal rifacimento nel 1999 del film Anna e il Re con Judy Foster. Come detto varie sono le opere pittoriche di Galileo Chini realizzate per alcune delle oltre 180 cappelle che ha il cimitero monumentale della misericordia dell'antella, per non parlare poi di quelle realizzate dalla manifattura Chini e dagli altri artisti della famiglia Chini, tra cui Tito. L'ultima sua opera per il cimitero è datata 1946 e si trova nella cappella San Silvestro, dove dipinse, per l'altare, le piedonne ai piedi della croce, oltre la lunetta esterna e decorando l'intera cappella, dove nel 1946 Galileo sepolse la giovane figlia Isotta, da lui molto amata, e dove dopo dieci anni sarà anche sepolto lo stesso Galileo Chini, assieme poi alla moglie. Per questo speciale centocinquantesimo di Galileo Chini, la misericordia dell'antella e il comune di Bagnaripoli assicureranno per tutto il 2024 le speciali visite guidate gratuite che sono affidate al confratello Franco Mariani. Per conoscere le date e prenotarsi si può chiamare lo 055 6233427 oppure scrivere all'email della misericordia dell'antella. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della misericordia dell'antella www.misericordia-antella.it